Vito tempo Totta 41.75, Sesto tempo Bellotto 42.45, Settimo tempo Corradi 45.42, Ottavo, Ilaria Pisa 46.10, Nono, Poloniali, 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 Poloniali. Il rilevamento, quindi questa è la scelta per quanto riguarda la categoria D. Intanto siamo in pista con il Formula Driver. Allora la categoria A non è presente. Siamo in pista direttamente con le venditure della categoria B dove in pista abbiamo con il 351 Giancarlo Bassanese su Fiat Ritmo. con il 211 abbiamo Omar Sololi, Fiat Ritmo e a chiudere poi con il 228 Fabio Crozzi su Renault Clio. Si preparano poi i piloti della categoria C, quindi il 22 Filippo Giacomini, l'11 Simone Deriù, il 167 Andrea Canepari e poi dovremmo avere anche il 246 Mauro Fiat Ritmo. Per quello che riguarda la categoria C. Tanto incontriamo per il Formula Driver. e la tecnica seria della지고era in caricature del 52 istituzione. Impressione sia abrarci mano da il 5I cattolino al 5I diritti a scuro. Attenzione, Daniela Disconzi a sede in direzione gara, ripetiamo Daniela Disconzi a sede in direzione gara, grazie. Intanto Attenzione Bassanese, problemi per lui all'uscita dalla tornata centrale della 4, poi comunque riprende la sua corsa, intanto è spazzato da Omar Tononi. Grazie.